Tutto Foppa, speciale mercato, in studio, Roberto Baldelli Ciao a tutti, io in questo momento non sono qui a parlare di il mercato di tutte le squadre, sono qui a parlare di una società, della Foppa l'ultimatum per iscrivere la squadra scade mercoledì, nei prossimi giorni sapremo se la Foppa si iscriverà, sappiamo già chi arriva, chi se n'è andato come giocatrice sappiamo che il nuovo mister è Micoli, il suo secondo è Daniele Turino abbiamo una nuova alzatrice, Malinov, proveniente da Conegliano e noi a questo punto speriamo in bene come sarà il futuro della Foppa qualcuno ci crede, qualcuno non ci crede io ci posso credere abbiamo altre squadre che si sono già rinforzate abbiamo una certa Sara Roda che a Monza questo mi fa piacere che si avvicina quasi di casa sua non voglio altro che dire io chiudo qua di quello che vi ho detto non vado altro a dire altre cose sappiamo solo dire che andate sul sito di Volli Mercato Femminile grazie grazie